Questa è la situazione dalle spighe di frumento. Per via della siccità metà sono vuote e non stanno più compiendo perché non piove, acqua nei fossi non ce n'è e quindi il frumento non sta riempendo. Incontri e tavoli quasi ogni giorno si susseguono per cercare delle soluzioni alla pesante crisi idrica che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori. La siccità su tutto il territorio di Cremona ha già compromesso diversi raccolti, ora soffrire il mais, proprio nella fase del viraggio, la più delicata della crescita. Tante piante sono già secche, peraltro lo sviluppo si è arrestato, i canali sono prosciugati e si rischia il raccolto anche della prima semina. Col diretti lancia un accorato allarme ed è al lavoro per cercare sia soluzioni tampone, definite giorno per giorno, sia strategie a lungo termine. Dramatica a partire dal nord della nostra provincia fino ad arrivare a Casal Maggiore. Le precipitazioni che sono avvenute dall'inizio dell'anno ad oggi sono inferiori in maniera del 50% rispetto a quella che è la media degli ultimi 15 anni. I laghi sono riusciti a fare un invaso decente grazie anche al fatto che la regione ha dato una deroga al deflusso minimo vitale, deroga che però si è conclusa. Quindi il nostro intento è che questa deroga debba proseguire. Oggi abbiamo le colture in campo che sono in estrema sofferenza e stanno resistendo ma sono fermi. I cereali autunno-vernini oramai sono compromessi. La produzione anche se dovesse piovere, anche se dovessi muovere l'acqua per irrigare, sul frumento e sui cereali autunno-vernini oramai c'è poco da fare. Dovremmo cercare di salvare il mais, il mais in primo raccolto soprattutto. Ieri c'è stata l'assemblea del Consorzio di irrigazioni cremonesi. La decisione del Consorzio è quella di erogare acqua con una portata del 50% rispetto alla portata normale per garantire almeno un paio di irrigazioni del mais. Se la situazione fosse questa e non dovesse più piovere, qui non si tratta di una riduzione della produzione, qui si tratta di un annullamento delle produzioni del mais.